Si è tenuta nella mattinata di lunedì 9 febbraio scorso nella sede della PT a Potenza la conferenza stamba di presentazione degli eventi che si svolgeranno prossimamente nel Parco dell'Appennino Lucano. Due eventi che sono tra quelli più importanti che l'ente parco promuove nel corso dell'anno, il Carnevale di Satriano e il San Valentino di Abriola. A presentare obiettivi e programmi sono stati il direttore della PT Gian Piero Perri, il presidente del Parco Domenico Totaro e i sindaci di Satriano Vincenzo Pascale e di Abriola Romano Triunfo. Due eventi che si sovrappongono entrambi in svolgimento tra il 14 e il 15 febbraio ma che pur nella loro diversità hanno in comune la capacità di unire la tradizione dei luoghi alla forza di accogliere elementi di innovazione e di proiezione verso il futuro grazie al coinvolgimento attivo e creativo dei giovani. La festa degli innamorati che si tiene ad Abriola, il cui il patrono è appunto San Valentino, è già partita da qualche giorno con un programma ricco di avvenimenti che si muovono tra il sacro e il profano, nel solco di una tradizione che da qualche anno è oggetto di rilancio e valorizzazione. Gli obiettivi fin qui raggiunti sono rusinghieri, ma anche per questa edizione si prospetta un notevole afflusso di turisti, specie grazie alle sinergie messe in campo con il polo turistico di attrazione lucano per eccellenza che è quello di Matera 2019. Personaggio di punta del Carnevale di Satriano è invece il Rumit. Icona antropologica del Parco dell'Appennino lucano è testimonianza di un'antica e radicata cultura della natura tra le genti lucane, una tradizione che viene declinata oggi in una nuova cultura dell'ecologia e della sostenibilità. Con questa figura che è la maschera antropomorfa dell'uomo albero, così misteriosa e suggestiva, la natura si riappropria dei territori della Basilicata, la cui immagine evocata dal presidente Totaro è assimilabile a quella di un grande bosco. Grazie soprattutto al lavoro del regista Fran Martino, l'uomo albero di Satriano attira l'attenzione di importanti musei di varie parti del mondo. Dietro il Romita, ha ricordato poi Totaro, c'è un messaggio di educazione ambientale, un rispetto dei luoghi e dei valori della natura che attrae anche i giovani. Sia il Carnevale di Satriano, realizzato grazie alla collaborazione dell'Associazione Alparco e del gal Marmo Melandro, sia il San Valentino di Abriola, contribuiscono dunque ad arricchire l'offerta di eventi di animazione turistica. E a proposito di turismo, il direttore Perri ha annunciato i progressi del comparto in Basilicata che nel 2014 fa segnare un incremento dell'8%. Numeri importanti, secondo Perri, che lasciano intendere che la strada intrapresa è quella giusta.